Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi chiamo Mariano Pirantozzi e faccio video così di tecnologia, di matematica, di fisica, cose un po' strane, diciamolo un po' pure. Tanto che oggi parliamo degli easter eggs di YouTube. Cosa sono gli easter eggs? Non lo sai? Beh, nemmeno io. No, diciamo che gli easter eggs sono dei programmini che vengono inseriti non solo su YouTube, ma anche dentro Word, Excel, dentro i giochi, dentro tantissime piattaforme, tramite cui, facendo delle particolari combinazioni di tasti, vengono fuori cose un po' strane. Sono assolutamente innocui ed i programmatori si divertono a metterli lì dentro. Quindi oggi noi andremo a scovarli. Nella seconda parte, invece, andremo a vedere dei video assolutamente stranissimi che YouTube continua a tenere dentro la sua piattaforma e sono a volte dei segreti, a volte delle cose abbastanza strane che non si capisce come siano stati prodotti. Quindi rimani fino alla fine perché, a mio avviso, questo video ti divertirà tantissimo. Partiamo immediatamente, ma prima ti debbo ricordare di iscriverti al mio canale e a tutte le mie piattaforme social. Infatti davvero per te è soltanto un click, invece per me è un grandissimo, enorme favore. Ti ricordo il mio canale Telegram in cui una volta, due volte a settimana ti vado a dare alcuni consigli di acquisto che, secondo me, sono imperdibili. Quindi partiamo immediatamente con queste cose spassosissime. Allora cominciamo subito con questi segreti easter eggs, non so come chiamarli. Ecco, ci mettiamo qui, vedete questi tre trattini e il link di YouTube, ci mettiamo qui, clicchiamo una volta, poi andiamo con il tasto Tab, vedete come ci stiamo muovendo. Se clicchiamo un'altra volta, bam, salta link di navigazione. Praticamente compare magicamente questo altro link che io posso andare a premere e poi se vado a premere tante volte Tab, vedete come vado immediatamente sui link, vedete come vado a navigare, potrei navigare direttamente qui, lo vedete senza utilizzare il mouse. Questo è il primo segreto che così compare magicamente su YouTube. L'altro segreto te lo faccio vedere qui, prendiamo un mio video, non so questo, Polerdos, se non l'hai visto, te lo consiglio assolutamente, un video fantastico, purtroppo con pochissime visualizzazioni. Quindi mi raccomando, se vuoi andartelo a vedere, perché a mio avviso è molto molto carino. Ecco, togliamo magari il volume, saltiamo. Ecco, guarda, se io premo da qualsiasi parte con il tasto destro, vedete che ho diverse opzioni, ma la cosa più interessante che forse non hai mai visto è statistiche per nerd. E allora adesso io voglio chiamare tutti i nerd all'ascolto, forza, capite che cosa c'è scritto qui? Dai, scrivimelo nei commenti. Che cosa vuol dire mystery text? Che cosa vuol dire current optimal rates? Insomma, qui è proprio una statistica per persone nerdissime, per gente che ci capisce tantissimo. Quindi scateniamo pure tutti i nerd all'ascolto che ci spiegano che cosa c'è sotto tutte queste statistiche. Io diciamo che posso iniziare a capire connection speed, network activity, forse anche buffer health, ma di certo mystery text assolutamente no. Bellissimo, eh? Dai, questa cosa spero che tu non l'abbia mai vista. Altra cosa, ti faccio così navigare ancora sul mio sito, vediamo che ti faccio vedere questa cosa qui, come calcolare le radici quadrate, andiamo a chiudere per ora le statistiche per nerd, andiamo a chiudere anche le pubblicità, ti voglio far vedere una cosa. Ti metti qui sul video, senza cliccare, senza niente, e scrivi awesome, insomma, fantastico, insomma, in inglese, ave, some, e se tu lo scrivi, guardate cosa accade. Vedete come la barra di navigazione inizia a blinkare tantissimo. Ecco, se soffri di qualche malattia tipo l'epilessia, ti prego non stare a guardare in maniera fissa, no, non scherzo, è vero. Quindi, si clicca questa parola, che ti scrivo magari qui sopra, e così vai a vedere che inizia a blinkare. Per smettere, basta cliccare di nuovo la parola alwaysome. Vado a cliccare, quindi vedete come smette di blinkare. Ma non devo nemmeno cliccare invio, adesso io l'ho premuto, non so per quale motivo. Bellissimo, eh? Dai, confessalo. Ecco, dopo questa carrellata andiamo a vedere dei video davvero inusuali, che nessuno ancora capisce come mai YouTube li continua a tenere dentro alla sua piattaforma. Il primo che andiamo a vedere dobbiamo, eh, dobbiamo scrivere Too many cooks, troppi cuochi. Andiamo a cliccare qui, eh, questo è un video che ti consiglio di guardare perché è davvero spiritosissimo, lo, lo fermo per problemi di magari copyright, ma vedete come nelle scritte iniziali vedo come YouTube gli è piaciuto talmente tanto quando questo video è diventato virale, YouTube gli ha cambiato il font e ha ripreso il font stesso del video. Questo è successo solo per un video nella storia che è proprio questo. Vediamo come questo video ha addirittura 18 milioni di visualizzazioni e proprio per questo motivo, vattelo a vedere, è davvero spiritosissimo. Se non avete mai navigato sul sito Numberfile, io te lo consiglio vivamente perché è un sito di matematica di altissimo livello ma raccontano delle cose molto molto particolari di matematica, molto molto interessante. Ebbene, in questo video andiamo a vedere come le visualizzazioni di questo video di diversi anni fa si sono frizzate, cioè stoppate a 301. È una cosa stranissima, andiamo a vedere perché. Ecco, come ti dicevo, questo sito Numberfile al mio avviso è il migliore di matematica diciamo quasi al mondo, va o perlomeno nella top 3. Se tu vai a mettere view freeze at 3 a 301, diciamola così, vado a vedere questo video, guardate questo video, i video di questo sito hanno tutti, vedete, a 3,22 milioni di iscritti, significa che ogni sito che loro fanno hanno tantissime tantissime visualizzazioni. E guardate qui, dal 22 giugno 2012, le visualizzazioni sono ferme a 301. Andatevelo a guardare perché intervistano proprio il direttore, così, dell'epoca di YouTube su questa cosa e gli chiedono per quale motivo, in effetti, quando, spero anche per questo mio video, quando carichi un video le visualizzazioni iniziano subito a salire, ma loro gli si sono stoppate a 301. Fantastico, l'unico video nella storia di YouTube. Questo video lo devi assolutamente guardare. Attento bene perché non si capisce ancora chi è il proprietario, non si capisce se addirittura forse è addirittura YouTube, il proprietario YouTube, guarda, guarda, guarda che cosa strana. Devi scrivere webdriver torso, scusate la mia pronuncia davvero da, ecco, scuola media, webdriver torso, vado a vederlo, vado sul sito e questo sito è abbastanza strano. Guardate che cosa c'è. Vabbè, intanto tutti i suoi, quanti iscritti fa, guardiamolo un po', adesso, questo ci ho fatto caso adesso, quanti iscritti fa, ne fa 5.000, vedete qui, 5.520 in un giorno, guardate quanti iscritti, questo sono io, ecco, quindi mi raccomando, iscriviti. Andiamoli a vedere tutti i video e vediamo come da anni questo sito carica tutte queste cose strane, rosse e blu, nell'arco, proprio prima li caricava tantissimo, proprio ne caricava uno ogni qualche minuto addirittura, invece adesso sono molto molto più radi. Andiamo a guardare uno, sono praticamente tutti uguali e vedete come se rimetto l'audio c'è anche l'audio, un audio, ecco, così, psichedelico e sono tutti video che sono lunghi 9 secondi e sono tutti fatti in questo modo qui. Una cosa abbastanza strana, soltanto due video all'interno di tutta la playlist non sono di questo genere, li andiamo a guardare il primo a 1,2 milioni di visualizzazioni, sempre un di 9 secondi ed è della torre Eiffel, e così di 6 secondi forse addirittura, della torre Eiffel, notate che non c'è nessun tipo di pubblicità e questo è abbastanza strano, oppure andiamo a vedere questo video qui che ha 1,1 milioni di iscritti ad un certo punto, guardate un po', andiamo, ecco, appare questa figura che dovrebbe essere Rick Hustley che balla, e vabbè, delle cose abbastanza strane, vedete? Chi c'è dietro questo video? In molti, ad esempio la BBC, dicono che dietro questo video c'è YouTube stesso, che va a testare la propria connessione e anche i risultati nel tempo, quindi da anni, da quando YouTube è stato fatto, fino ad adesso, perché in effetti è molto strano che questo sito non sia stato chiuso per spam. Hai visto che strano? Davvero un qualcosa stranissimo, lasciami qui nei commenti se già tutte queste cose le conoscevi oppure sono completamente nuove per te. Ecco, andiamo adesso sulla home page di YouTube, eccola qui, ci mettiamo sulla barra di navigazione e scriviamo barra robots.txt Andiamo a battere invio e guardate che cosa accade, niente di che, eh, ragazzi. Cioè, diciamo che il robots.txt sta su tantissimi siti, serve fondamentalmente per comunicare con i motori di ricerca, quindi niente di strano, eh, niente, non andiamo dentro i direttori di YouTube, chissà fare cosa. Guardate che cosa c'è scritto, una cosa abbastanza simpatica, ecco, vedete come i programmatori si divertono, creato in un lontano futuro, 2000, dopo la rivolta robotica della metà degli anni 90 che spazzò via tutti gli esseri umani. Ecco, insomma, una cosa simpatica, diciamo, così da condividere e da sapere in più proprio su YouTube. Ancora un'altra cosa sempre su YouTube, andiamo invece di scrivere robots, andiamo a scrivere new, qui andiamo a vedere che cosa appare, ecco, diciamo che questo, vedete, prova nuove funzioni sperimentali. Questa è una parte di YouTube in cui tu ti puoi andare a registrare per fare in modo che loro ti vadano a chiamare nel caso in cui stanno facendo delle cose sperimentali, quindi stanno così per lanciare magari delle nuove features proprio su YouTube. Se volete potete registrarvi. Ecco, andiamo a vedere l'ultimo sito davvero stranissimo che c'è su YouTube, direi particolarissimo, particolarissimo, se scriviamo Seinfeld Without People sulla barra di ricerca, ci viene fuori questo video qui. E guardate, guardate, non c'è nessuna descrizione. L'unico video su YouTube, in cui vedete questi altri li hanno tutti la descrizione, è un unico video su YouTube che non ha descrizione. Anche questo te lo consiglio perché è carino. Vedete qui? Non c'è nessuna descrizione. Ed inoltre ci sono dei commenti che non hanno commento. Guardate qui, dei commenti vuoti. Insomma, YouTube si diverte davvero ogni tanto a fare delle cose molto molto strane. Guardate anche qui sulla barra in cui non c'è scritto nulla. Una cosa molto molto simpatica. Beh, adesso siamo arrivati al decimo, però siccome non si trova il decimo easter eggs o perlomeno YouTube li ha rimossi perché ogni tanto vengono rimossi. Quindi, visto che sono appeso a nove cose, ti darò ben due easter egg di Google proprio. Guardateli perché sono spassosissimi e potrete davvero stupire quelli che vi stanno attorno. Se vado a scrivere Google Gravity ecco, scrivo Google Gravity, gli dico mi sento fortunato e voilà, guardate che cosa succede. Pam! Tutto cade perché questa è la gravità secondo Google. Un'altra cosa che ti faccio vedere è Find Chuck Norris. Eccolo qui, Google non cercherà Chuck Norris perché sa che tu non lo troverai ma che lui troverà te. Bene, io adesso ho finito. Spero davvero che questo video ti sia piaciuto. Non posso non lasciarti ricordandoti di iscriverti al mio canale perché davvero a te non costa nulla e iscriviti anche a tutti i miei social. Clicca sulla campanellina in modo da rimanere sempre in contatto con me. Lasciami qui nei commenti nel caso in cui tu già conoscevi tutte queste cose che abbiamo visto oppure alcune ti sono nuove se ti hanno stupito e adesso non mi resta che lasciarti augurandoti una splendida giornata e ti saluto con il mio. Ciao ciao! Passare sette minuti col caffè e una sigaretta e pello scatto per finire sopra il cesso Grazie a tutti!